Tutti i fotografi si sa commettono errori e le prime 10.000 foto che scattiamo in vita nostra sono senza dubbio le nostre peggiori. Ma allora che cosa dire delle nostre prime 10? Amici oggi è una puntata molto speciale perché vado a farvi vedere quelle che sono le prime 10 fotografie scattate dal sottoscritto che sono riuscito a trovare perché poi ce ne saranno altre, non sono esattamente le prime che ho scattato però sono le più vecchie di tutte quelle che ho trovato all'interno dei miei cataloghi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni però non è sempre stata la mia professione, infatti c'è stato un tempo in cui scattavo per puro diletto e scattavo a pellicola per cui mi ricordo molto bene che cosa significava avere il rullino. Le immagini che andrò a farvi vedere oggi fanno riferimento a un mondo lontano e ormai quasi dimenticato se questi argomenti vi possono interessare io vi consiglio di iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto cliccate anche la campanella così non rischiate di perdervi gli aggiornamenti soprattutto cliccate la campanella così non vi perdete i contenuti brevi che posto in risposta alle domande che mi fate sotto i video. Bene ma prima di partire con le immagini andiamo con un po' di contesto io comincio la mia avventura fotografica con questa piccolissima Minox 35GT 35 sta a indicare che è una focale fissa da 35 mm come spero vi riusciate a vedere si tratta di un lentino minuscolo con un piccolissimo anello di messa a fuoco proprio qui sopra silenzioso questa me la affidò mio padre che ne aveva una più bella e più figa e quindi a me diede questa giustamente questa lui la utilizzava come macchina da tutti i giorni suppongo se la teneva in tasca durante i suoi viaggi ed era comodo tirarsela fuori fare uno scatto col 35 mm e al momento non ho la pila dentro quindi non ho neanche modo di verificare perché non mi ricordo assolutamente come funziona ma credo che avesse un esposimetro interno altrimenti non mi spiego come mai avevo azzeccato le esposizioni in queste foto che vi faccio vedere oggi una macchina sicuramente piccolissima adatta alle mani di un giovanotto di 16 anni perché le foto che vi faccio vedere oggi risalgono come detto al 2001 indubbiamente credo in qualche maniera di essere stato portato per la cosa anche se nella prima immagine che andiamo a vedere oggi orrore ragazzi l'orrore totale come potete vedere le linee verticali sono decisamente cannate d'altronde bisogna pur imparare e guardare dentro in una focale per giunta così piccola e con l'errore di parallasse che io all'epoca non sapevo cosa fosse però di certo non mi ha aiutato non era facile non era facile per niente oltretutto non vedere i risultati subito è un handicap perché io vedo il risultato subito su una digitale e vedo subito dico ho fatto una porcata la rifaccio qui non si vedeva quindi con la tendina dello shutter che si chiudeva e mi oscurava la visuale proprio nel momento dello scatto io magari ero portato a pensare di averla fatta bene invece come potete vedere in questo primo caso era assolutamente sbagliata l'esposizione quanto meno era giusta quindi l'esposimetro aveva fatto il suo lavoro e io probabilmente avevo esposto correttamente non so dirvi come funzionasse l'esposimetro su una macchina vecchia come questa però vedo che il risultato era corretto quindi non è una bella foto chiaramente non è una bella foto però non si vede tanta gente in giro che è una caratteristica stilistica che a me è rimasta e l'esposizione tutto sommato è corretta tenete conto che queste sono scansioni dai negativi a pellicola quindi qui non abbiamo una qualità di immagine stellare ovviamente però per essere una fotocamerina piccolina così con un lentino piccolino e con il rullino di una volta diciamo che si lascia anche guardare andiamo avanti con la prossima immagine e mi ricordo all'epoca mi ricordo il dilemma perché siccome eravamo negli Stati Uniti e visitavamo Las Vegas mi ricordo i problemi che c'erano stati perché io volevo fotografare Las Vegas di notte cioè il fulcro dell'intero viaggio per me era fotografare le lucine di Las Vegas di notte non aveva senso essere lì per me se non potevo fotografare Las Vegas di notte anche perché tenete conto che nell'anno in cui ci sono andato io non ero maggiorenne e negli Stati Uniti si diventa maggiorenne a 21 anni quantomeno per certe cose quindi io potevo comprare delle armi però non potevo entrare al casino e andare a Las Vegas senza poter entrare al casino insomma è frustrante quindi volevo quantomeno riuscire a portarmi a casa due foto decenti non ci sono riuscito però quantomeno ci ho provato e mi ricordo molto bene che abbiamo acquistato dei rullini da 400 asa perché avevamo i 100 asa per il giorno e i 400 per la notte come potete vedere l'immagine è un po' noisy, è un po' granulosa però ovviamente sempre ricordandoci i mezzi fotografici che avevo a disposizione e considerando che questa immagine è stata scattata a mano libera così nel traffico senza neanche rifletterci troppo continuo a pensare che non sia sta penso che tutto sommato non sia neanche tanto male io qui ravviso solamente un po' di distrazione nella composizione perché ho tagliato la scritta rosa in alto avrei potuto centrarla un po' meglio magari semplicemente facendo un passettino indietro però non me la sento di dire che sia una pessima foto sì certo non si capisce bene dove sono quindi non è la foto del secolo però non fa neanche schifo cosa dite lasciatemelo sapere in un commento voglio sapere cosa pensate di ogni singola foto andiamo avanti e anche qui mi ricordo il dilemma anche per questo perché adesso siamo bravi tutti a dire sì certo giorno, notte premo un bottone, è tutto a posto col cavolo una volta c'erano i rullini e quindi se io volevo passare dal giorno alla notte dovevo cambiare il rullino oppure cambiare la macchina fotografica quindi avevamo due macchine fotografiche c'era la mia e c'era quella di mio padre ora io non voglio appropriarmi indebitamente di questo scatto perché credo sinceramente che fosse mio però vista la composizione che mi sembra tutto sommato giusta potrebbe anche essere di mio padre chiaramente avendo fatto le scansioni dai negativi digitali non ho veramente modo di controllare i dati exit di queste immagini quindi io credo che questa sia mia perché ce l'ho io e nel mio catalogo ma potrebbe anche essere di mio padre voglio credere che sia comunque un'immagine mia di nuovo la composizione è corretta l'esposizione soprattutto mi sembra molto corretta e quindi anche qua fatemi sapere cosa ne pensate non è lo scatto del secolo però un pochino credo che ci stavo prendendo la mano e voi cosa dite? ok altra foto del deserto qui probabilmente su imbeccata di mio padre probabilmente io il cartello all'epoca l'avrei sparato dritto in centro secondo me qualcuno mi ha dato una gomitata e mi ha detto ma chi lo da un lato e quindi ho usato la regola dei terzi correttamente vedete l'esposizione? a me sembra veramente giusta l'esposizione in queste immagini ora io non so perché non lo so se chi ha sviluppato il rollino ha fatto cose perché sapete che in fase di sviluppo è possibile un minimo intervenire per ripristinare certe zone piuttosto che io non lo so se chi ha sviluppato il rollino l'ha fatto è possibile di sì magari l'esposizione non era così buona ed è stata migliorata in fase di sviluppo come d'altronde succede anche oggi però devo dire che queste esposizioni a me sembrano molto buone e i colori sono comunque molto pellicolosi il che ci sta non sono ritoccate queste immagini sono scansionate ma non sono state toccate quindi questi sono più o meno i colori veri che ci ha trasferiti in digitale ovviamente ma sono i colori veri che abbiamo sulle foto stampate procediamo e questa quasi certamente è mia un pochino più didascalica volendo con l'orizzonte in mezzo però insomma ho fatto quello che potevo e ho cercato di racchiudere tutta quanta la scena nel modo migliore di cui ero capace tutto sommato credo che aver beccato l'orizzonte dritto sia già un buon risultato andiamo avanti e vedete che questa è una scena secondo me non facilissima da fare perché tenete conto che era una zona con un contrasto molto forte avevamo il cielo dietro avevamo il soggetto principale che era parzialmente in ombra e avevamo il sole che picchiava durissimo su queste rocce qui al di là della composizione che insomma lascia un po' il tempo che trova ma sono abbastanza indulgente con me stesso perché mi ricordo che stavamo su un sentiero e non è che si potesse andare in giro per fotografare questo scorcio di questa antica abitazione del deserto non potevo andare chissà dove perché eravamo in un sentiero e c'era vegetazione quindi quello era il punto da cui fare le foto altrimenti ci voleva un drone o un elicottero cosa che all'epoca ahimè non possedevo devo dire che sono piacevolmente colpito dall'esposizione più che altro dalla gamma dinamica della pellicola vabbè lo so che la pellicola aveva una gamma dinamica di tutto il rispetto anche all'epoca ma devo dire che sono colpito dalla resa sia nel cielo sia nelle rocce sia nelle ombre devo dire che con una fotocamera digitale non lo so eh non lo so se sarebbe venuta fuori questa gamma dinamica questi sono sono bei dilemmi perché il digitale è più comodo è più facile vedi la foto subito però onesto io non lo so se in macchina avrei avuto questo risultato magari facendo un recupero delle ombre a casa ma neanche con tutte le macchine comunque buon risultato secondo me non è per incensarmi io sto incensando la pellicola la foto non è niente di che perché come detto la composizione non è purtroppo nulla di esaltante procediamo vi mostro uno scatto della suppongo Monument Valley mi sembra la Monument Valley dovrebbe esserlo perché ci siamo passati come potete vedere qui c'è un tentativo di framing cioè ho usato i soggetti principali come cornice sì non è la trovata più geniale dell'universo perché i soggetti principali dovrebbero avere un ruolo di spicco nell'immagine io invece li ho usati per incorniciare il nulla perché non c'è proprio un cavolo di niente lì in mezzo però sono esperimenti no? d'altronde uno prova a fare delle cose poi le riguarda e dice ok questa è venuta questa no e poi rifai quello che ti è venuto mentre scarti quello che non ti è venuto una cosa del genere io oggi non la farei più probabilmente perché cercherei di dare il giusto rilievo ai soggetti principali però devo dire l'esposizione non è niente male i colori non sono niente male cerco di trovare qualcosa di buono nelle mie immagini e non voglio distruggere il me stesso del passato passiamo a un po' di architettura che a me non dispiace mai questo vabbè chi non lo dovesse aver riconosciuto questo è il Golden Gate Bridge di San Francisco c'era un freddo boia venendo dal deserto era una roba devastante abbiamo letto un cartello in un bar che diceva il mio inverno più freddo è stata un'estate a San Francisco e una volta arrivati abbiamo capito il perché perché a San Francisco arrivi in piena estate dal deserto e fa un freddo porco come potete vedere il cielo è bianco perché c'era un nuvolone bassissimo ma gigante che si mangiava praticamente tutto il ponte e quindi questa è una fotografia credo scattata dal battello e devo dire la composizione ci sta perché comunque viene sfruttata la diagonale anche qui non è la foto del secolo ma è colpa principalmente degli elementi atmosferici perché per il resto la composizione ci sta benissimo ma passiamo all'ultimo scatto che vi faccio vedere oggi e sono nove quindi vi ho mentito non sono le prime dieci sono le prime nove ho fatto una selezione le altre erano doppioni o comunque cose che dove si vedevano persone riconoscibili non volevo mettere dentro niente di tutto ciò quindi sono solamente nove ve ne faccio undici nella volta prossima così pareggiamo questa qui è una fotografia che è sbagliata perché è sbagliata è sia storta sia inquadrata male questa qui è la Hoover Dam se ricordo bene la diga di Hoover da cui siamo passati se ricordo bene ne è nello Utah non mi ricordo più non mi ricordo un tubo in geografia sono debolissimo però noi passavamo di lì e mi ricordo che ci siamo fermati a guardarla perché comunque era indicata come un punto di interesse è una diga nel deserto e non c'è assolutamente niente quello che vedete nella foto è quello che vedete dalla strada e non c'è nulla almeno all'epoca non c'era nulla di più non so neanche se si potesse visitare però questa è una foto che a me ancora oggi piace nonostante sia sbagliata perché insomma è storta non è tagliata benissimo però mi ricordo proprio mentre la facevo mi ricordo come l'ho fatta e dalla posizione in cui ero quindi ero lì sul parapetto non potevo sporgermi non potevo andare avanti non potevo andare indietro avevo solo un 35 mm mi ricordo che l'ho fatta e ho pensato va come deve andare è così basta questa è una sensazione che mi sono portato dietro perché spesso quello che riesci a fare è quello che ti tieni non si può andare né avanti né indietro questo è questo ti tieni di nuovo siamo in presenza secondo me di una foto esposta bene perché vedete che ci sono delle zone di contrasto estremo abbiamo delle luci molto chiare delle ombre molto scure però non vedo una grave perdita di dettaglio da nessuna parte di nuovo non so se il digitale sarebbe stato in grado di produrre un risultato simile in un contesto del genere probabilmente sì con un forte recupero in post produzione forse avrei anche dovuto fare l'HDR con tre scatti devo dire che questa pellicola nonostante non sarà stata una pellicola di pregio perché insomma era una macchinetta piccola affidata a un minorenne per fare le foto delle vacanze quindi non sarà stata una pellicola di quelle premium però devo dire i risultati non erano niente male questa ovviamente era la pellicola diurna quindi era meno rumorosa secondo me faceva un ottimo lavoro si riuscivano a portare a casa delle immagini delle vacanze anche con una strumentazione molto minimale se ricordo bene io avevo a disposizione tot rullini che se ricordo correttamente erano tipo quattro di cui tre diurni e uno notturno quindi sono 36 foto moltiplicato per quattro non sono tante pensate oggi quante fotografie facciamo con i telefoni cellulari e ne buttiamo via alla maggior parte io da un viaggio negli Stati Uniti di due settimane sono riuscito a salvare nove immagini nove su 36 moltiplicato per quattro quindi direi che è un buon risultato tutto sommato e vi voglio dire per mettere me stesso ulteriormente in imbarazzo che in tempi molto più recenti in occasione di un viaggio a Amsterdam sono riuscito a scattarne tantissime di foto con una fotocamera che invece era digitale e da quel viaggio non ne ho salvata nemmeno una nemmeno una e lo sapete perché? perché conscio del fatto che era digitale quindi era la prima digitale che avevo sapevo che potevo scattare più fotografie non avevo più il limite dei 36 scatti ho fatto così tante immagini senza neanche pensarci che le ho buttate tutte non se ne è salvata neanche una a questo punto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate secondo voi sono migliorato o peggiorato dal lontano 2001 secondo voi scattavo meglio con la pellicola o il digitale mi ha portato comunque dei vantaggi fatemelo sapere nei commenti se vi interessano argomenti di questo tipo lasciate un bel like a questo video lasciatemelo sapere in un commento così capisco bene o male quali sono le vostre preferenze vi ricordo anche di iscrivervi al canale così non perdete eventuali contenuti di aggiornamento o eventuali risposte in video brevi alle domande che mi lasciate qui sotto signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e vi do appuntamento al prossimo video A presto